Oh cazzo, un cricamento Gesù Ok, siamo tornati, e come al solito crasha tutto Cazzo sono felice a fare, poi, non lo so Ah, guarda che c'è un drone Basta Ho detto come intro, mi preoccupate Va bello Mi lagga anche la voce Mi lagga anche la voce FUKERS We're coming for you OUGH Oh no no no, fuggers Let's keep moving I can't believe you lost that guy into a trap I can't believe you still can think of it Did you wanna know who these people are? Listen, all the matters is the vault Fine now, get the hell out of here Is this what's going on all my life? Normalmente i telecomi usano questi f***i shotguns Sì, no, 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 le banks non siano come un pallidus Sì, sono grandissimo quello che ti fanno, no? Boh, ci sono fatti in quello stranzato che ti fanno E va, capisci, capisci E va, capisci, capisci Eh, lo deve fare anche da qui, lo deve fare insieme Oddio Cazzo, che un lady prova non c'è Ah, 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 ah Io so perché ho fatto Il musulmento Cazzo, le posizioni si bloccano Ah, perfetto La vedo sta qui sta con la schiena Cazzo, sei morta, non ti vedo cosa si è morta Johnny Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah No way we're cracking this thing Ready for plan B? Yup Josh, get over here Got the tools right here, Holmes So, ah, ah so, ah, what's plan B? Eh? Drill Ah? Noi che non se nemmeno. E' giù proprio! Va che! È veramente lontano, noio! D'ora d'accordo! A presto di soppello ho bisogno di cambiare dei vostri valti. Oh! The're very dissi! Quite a fare giorno. Stop! E' solo... se non mi fai fuori qui, non voglio le cose sbagliate. Mi chiedo tanto! Se non so che sono malato, ma... Tu dici che puoi stoppare noi! Ma non so chi è più matto tra me, o questi qua che vanno contro me. Ah, andate. Come se tutti allo stesso modo. E purtroppo anche io. E ha finito il stand. Bene. E' un cazzo di merda che non sa neanche correre per 3 minuti. E basta ricaricare la tua cazzo di stand. Ok, bisogna salire. Andate di qua. Cazzo di freddo. Oh, qualcuno sbagliò sempre in scarto. Ok. Who the fuck are you? Aird shot. Give me the cash. Thanks, thank you. Hilario, grazie, grazie, grazie. Faccio il nome di Kosh, il Kosh. Sì, prepariamoci. Piazza. Vibrazione! Oh minchia! Cazzone di merda! Cazzone di merda! Cazzone di merda! Cosa? Non voglio essere alcun ragazzo! Ho bisogno di andare dopo lui? L'inforzio non credo sia... adatta. Quanto tempo il chopper si arriva? Non lo so. Ho già giocato questa missione. Se lo gioco devo finire. Guarda. What the fuck? Flashback. Quella minchia di tu sorella però eh. Non è riferita a questo. Cazzone di merda! Gli odio. Gli odio. Gli odio. Gli odio. Non bemmeno. Oh no no ne accanete. Ehi. Sei saputo! Io posso giocare. Wow. Quaare! Con'è già? Sì, no vabbè, voglio quest'arma ufficialmente perché la pompa lo odio. Non è che muore, no? 200 caricatori addosso non muoiono. Ok. 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 Sto con un cazzo di scudo anti-sammossa. Non. Tuoi. Mettemi in preoccupazione. Perché mi lo tolgo? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok. 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 Ok, continuiamo Com'l'ho detto ben visto E l'unico però decente perché troppo c'è una merda more momento Beh, questo è un po' da... un po' dunque da I-Sitecrack che non ci sono proprio Non mi ha detto Mori 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 fuck your bitch Effetto d'aquo, ricordatevi si è uscito l'effetto d'aquo di Hulu Mori 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 mori... Oh... ...tai un po' di... ...dia un po' di... ...dia un bombo... ...dia un po' di... Oh mamma mia, mi ha detto che il consiglio mi stava dando. Ehm... No, 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 no! No, dai! No, dai! God damn! Oh shit! Fuck yeah! Horrissimo! Abbiamo finito la prima missione! Cazzo! Non voglio finire così il primo gameplay! Arrestato! Valla palizia! Che minhia! Ok, non c'ho capito un caso! Non manca mai semplice! Cazzo! Devo fare! Cazzo! 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 Ciao! Cazzo! 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 no è impossibile dai attacca no, non c'è la tua mia fa male grazie 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 ciao mi ah aha oh she pain hi ma paz grazie che cosa vuole? ok, madre f***a non ci sono scopi stupido non ci sono 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 che cosa Oh, tantissimi? Oh, tantissimi? Oh, perdon, che me mira poi Aspi, non c'ho più vita Ok, se sto ricaricando, da attravento o se sto ricaricando? Non voglio Non voglio Da' il manzato Johnny, siamo a ricaricando Sì, non vedi, non vediamo Sì, non vediamo Ossi, una macchina di testa non fa, non ha mai utile nessuno Averro a Unor, unor, unor Unor! Anche questo! For damn sake! You're dead! I'm ready for you! I'm ready for you! I'm ready for you! Go! 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 E' lo stesso? Oh, non mi piace! Ah, brava c'è... Voi che la faccia per me. Non mi piace! Non ho fatto un minuto! Non ne pensi che ci sia un momento! Non ne pensi che ci sia il tempo! Non pensi che ci sia la tua mia. Non ne pensi che ci sia la tua mia! Sì, mentre le zambinezzate è una bella idea. Cazzo, peggio di figlio. 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 Sto facendo sempre ammazzare uno e non ci possiamo stare. Cazzo, peggio di figlio. Ma ねigma di figlio. Cazzo, peggio di figlio. andiamo l'ultimo Eh si, è di nuovo in costa, attenzione! Sì, andando il mio verso maggio urla tutti i gentili che neanche avete fatto. Ahia. Venti, 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 venti. So traduz. Felsi a capo. Perchè! Mi sono venuto a casa! Ha! Sei... ... 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 eh? Gentlemen, negotiations were less than successful. Viola and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the syndicate and the saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's head. Mr. Miller, hack into the saints' accounts and leave them nothing. Okay, questa è guerra. Dai, avete progiudato il Condemind. Questa è fottutamente guerra. Okay, quindi ci vediamo. Quindi, bro, bro, fan tutto quello che volete e ci vediamo al prossimo episodio e qui, buon palma, ciao!